Sotto il sedile del passeggero avevano nascosto ben 100 pasticche di ecstasi ed oltre 100 grammi di chetamina, ma sono state scoperte ed arrestate dalla polizia stradale. Si tratta di due donne, una retina, l'altra maceratese, entrambe con precedenti specifici piaspaccioli superfacenti. Le due stavano viaggiando in A1 quando sono state fermate dai poliziotti nel corso dei controlli a reticolo che le pattuglie della postrada attuano lungo le principali arterie della regione per individuare sia gli automobilisti poco virtuosi che i delinquenti. Gli investigatori della sottosezione di battifolle insospettiti hanno voluto approfondire il controllo rivoltando all'auto come un calzino e il loro fiuto ha fatto centro. Sotto il sedile della passeggera infatti i poliziotti hanno trovato quattro involucri di celofan contenenti 100 pasticche di ecstasi e 123 grammi di polvere bianca risultata poi essere chetamina. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato alle due malviventi più di 5.000 euro. La Polstrada ha arrestato così per spaccio di sostanze stupefacenti le due donne alle quali sono state sequestrate sia l'auto che la droga.